Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E il mio ruolo politico? Semplice. Convincere sei senatori a passare dalla tua parte. Convincere sei senatori. Avergli una grande opportunità. Occuparti degli italiani e non l'hai fatto. Ecco, 20 secondi. Tanto impiegano le mie aziende per fatturare 2 milioni di euro. Volevi essere uno statista? Ambi addirittura ad essere il Presidente della Repubblica. Ma sei rimasto più azista.